bene eccoci al nuovo special del salotto credo che sia il primo special della terza stagione perché il resto delle puntate sono state insomma i salotti al festival e non potevamo esimerci dal parlare del dune di vilnev però abbiamo pensato di farlo nella nostra rubrica confronti e quindi banalmente ma giustamente confrontarlo con il dune di lynch e in realtà almeno non tutti noi però ci saremmo visti anche la versione alternativa a quella che lynch non non riconosce però in generale il insomma il confronto sarà tra questi due autori e il modo in cui hanno trasposto il romanzo di herbert non tutta la saga loro hanno trasposto entrambi solo il primo romanzo però il dune di vilnev sarà diviso in due parti quindi effettivamente a livello di trama metà delle cose che ci sono nel dune di lynch accadono nel interamente nel dune di vilnev che si ferma al punto in cui paula entra nei insomma va a vivere con i fremen e però al di là di queste differenze narrative insomma ce ne sono ce ne sono molte altre per quanto mi riguarda anzi io credo che tutti i presenti siano d'accordo con ritenere che la versione di vilnev è migliore di quella di lynch e so che la comunità cinefile è un po divisa su questa cosa però mi sembra che io abbastanza inspiegabile però sì 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 ogni tanto accadono paradossi paradossi cercheremo di capire il perché perché insomma al di là adesso proviamo a vedere proviamo a confrontare i tuoi film però la ci sono due domande per me veramente strane a livello di insomma che riguardano questa trasposizione la prima è che devo dire la verità secondo me nessuna delle due trasposizioni è davvero fedele al libro cosa della quale di solito non mi frega nulla e in questo caso men che meno perché non mi piace il libro però è interessante capire e ce lo si chiede da anni perché è così difficile trasporre un libro che sembrerebbe così facile da trasporre cioè sembrerebbe qualcosa che è stata scritta apposta per avere successo a livello di saga cinematografica e invece renderlo in un film è parecchio difficile e se lo devi fare devi fare parecchie rinunce ma non intendo a livello di fedeltà narrativa intendo anche proprio di visione eh autoriale e questa cosa la fanno sia Lynch che Villeneuve e la seconda domanda è come è possibile questa è più polemica ci arriviamo alla fine se siete d'accordo come è possibile ehm che una un tale pregiudizio distorto nei confronti di un autore possa mai far valutare la versione di Villeneuve peggio di quella di Lynch e in ogni caso lascio la parola a a chiunque di voi voglia iniziare e perché secondo me è il caso prima di dire quali sono le quali sono i problemi della versione di Lynch e poi magari di vedere invece quali sono i punti di forza rispetto a a quella di Villeneuve che presumo tutti gli ascoltatori abbiano visto posso provare ad attaccare io eh per chi non giusto brevemente per chi non sapesse sarebbe un po strano per chi non sapesse un attimo cos'è cos'è Dune eh Dune appunto tratto dal romanzo di Herbert è un una saga eh fantascientifica ambientata nel diecimila eh che gira intorno alle vicende eh di quattro pianeti di una galassia e eh quattro pianeti eh diciamo sottoposti al potere rispettivamente di un imperatore di un duca di un barone e l'altro di nessuno perché è un pianeta desertico appunto Dune e eh tutta quanta la vicenda gira intorno a eh pianeta Dune o Arrakis da cui si estrae questa spezia melange che è è una sorta di droga che permette di ampliare i propri sensi e eh per farla proprio semplice è eh è intorno a Paul Atreides che è il figlio di un duca di uno dei pianeti e e che eh si sospetta fin dall'inizio del film anzi qualche qualche potere forte già lo sa o lo immagina sia eh una sorta di prescelto in grado di eh diciamo eh in grado di sfruttare eh sia la spezia ma anche altre fonti altre altre cose che si trovano in questa in questa galassia per assumere un potere poi adesso magari su questo ci direte più dettagliatamente perché io veramente mi baso semplicemente sull'esperienza dei film comunque l'unica cosa che mi viene in mente in questo momento è che lui ma proprio nulla su questa cosa deve diciamo deve deve venire c'è una profezia riguardo il suo potere lui potrebbe essere detto quindi c'è un attimo questo questo tipo di di discorso e allora per quanto mi riguarda chiaramente Dune come film di genere risente molto un po' dell'esperienza un attimo personale di come ci si approccia a Dune e ho visto quello di Lynch da ragazzino quando ho visto tutti i film di Lynch non mi era piaciuto proprio e ho visto quello di Villeneuve quest'anno e io che non sono affatto fan di Villeneuve mi lascia spesso indifferente invece mi sono ritrovato di fronte a un film che mi ha soddisfatto soprattutto per un motivo ben preciso e diciamo adesso seguo il tuo schema di ragionamento Dario nel senso è la principale differenza fra i due film che è quella più superficiale quella che più mi ha colpito e che ha determinato le mie diciamo il mio apprezzamento diverso per i due film perché poi quello di Lynch l'ho rivisto è che in Villeneuve che Kennen viene detto molti la sensazione di entrare in un mondo in una maniera diversa rispetto a come il cinema le opere narrative in generale nel contemporaneo ci abituano ad entrare in un mondo in una mitologia cioè la sensazione che io che non mi ricordavo nulla del mondo di Dune sono stato letteralmente accompagnato dentro quel mondo e in un modo diciamo facendo sì che le informazioni necessarie perché io potessi seguire il film arrivassero in maniera molto graduale a me la sensazione sinestetica di guardare il film diciamo in una sala anche piuttosto buona quindi gli effetti speciali chiaramente hanno avuto il loro peso in questo e che proprio io scoprissi Dune come lo scoprirebbe un archeologo che scava la sabbia e trova un fossile cioè io ho avuto la sensazione proprio di immergermi in un mondo in una maniera che non mi accapitava spesso di vivere cioè in una maniera osso dire una parola che forse con questa operazione gigantesca sembra inadatta essenziale poi diciamo questa cosa ha varie conseguenze però mi piaceva dirla come prima cosa perché quando poi ho visto il film di Lynch che pure ha subito tantissime tantissime disavventure tra l'altro viene dalle ceneri del tentativo di Jodorowsky da Tredune magari poi ci arriviamo pure perché poi i diritti vennero acquisiti da De Laurentiis e la viene realizzato il film di Lynch e anche lì ci furono una serie di di atrib perché la stessa versione di Lynch è stata probabilmente eh inficiata molto dal desiderio del produttore di fare una cosa di venire incontro a certi gusti eh del pubblico degli anni ottanta e allo stesso tempo dalla voglia di Herbert che era in sceneggiatura e di far notare delle cose e dare enfasi a certe cose che adesso su questo eh mi direte voi perché non ho letto il romanzo ma la sensazione in Dune di Lynch è esattamente il contrario di quello che ha detto Dario che cioè certe cose fosse proprio difficile eh trasportarle sullo schermo specie tutto quello che riguarda eh le voci interiori questa questa cosa molto stile forza di Star Wars eh che in Dune di Lynch non solo si traduce in un in un grosso sacrificio del ritmo del film nel senso che molti dei dialoghi eh vengono eh delle voci interiori che vanno di pari passo ai dialoghi vengono risolti con dei primi piani e delle voice over molto posticce che tra l'altro nella versione di tre ore sono ancora secondo me peggiori perché si accompagnano a una voice over eh molto estrani al film molto anche questa molto eh come dire eh inopportuna in certe circostanze è il eh eh diciamo concluderei questo paragone dicendo che diversamente dal Dune di Vilnev il Dune di Lynch sia la sua versione che la versione di Alan Smith di tre ore si aprono con delle eh delle sequenze che ti devono proprio ficcare a forza dentro un mondo ti danno veramente una lista di informazioni tentando di eh elaborarle in un certo modo eh in in Lynch la figlia dell'imperatore in primo piano che fa una geografia della galassia in in quello di Alan Smithy vanno ancora più a fondo nella nei motivi per cui storicamente si è arrivati al diecimila in queste circostanze e tramite i disegni degli sketch e cercano di raccontare un po' di quel mondo tutto pregresso a quello che poi vediamo avvenire eh vediamo avvenire nel film e e quindi ho avuto proprio la sensazione opposta e questo eh questo modo di entrare nella mitologia che secondo me dovrebbe essere il ragionamento principale di qualsiasi operazione che lavora con queste cose e ha determinato poi il mio apprezzamento del film perché è è questione di entrare in un mood e di capire che la mitologia non è solo il contenuto è ciò che viene raccontato a prescindere da come viene raccontato ma è esattamente il modo in cui lo racconti e quindi per me la grossa differenza che rende i film di Lynch per me irricevibile e i film di Villeneuve è piuttosto bello è proprio il modo in cui sono entrato nel mito e nel mondo di Dune. Io mi trovo assolutamente d'accordo infatti volevo prima che lo anticipassi più lo proprio porre l'accento sul fatto che il film è di Lynch rispetto a quello di Villeneuve è un film molto didascalico sotto certi punti di vista nell'arrare la storia sia attraverso appunto la spiegazione eh all'inizio del film ma anche durante il film degli avvenimenti ma succede anche con eh con le scene di di Waste Over perché lo stesso personaggio protagonista quindi se vuoi Sover spiega eh platalmente la la un po' tutta la profezia che che dovrebbe essere giustamente quella che muove tutto tutto il film mentre nel film di Villeneuve questa cosa viene lasciata molto più molto più intendere e secondo me questa è la forza del del film di Villeneuve rispetto a a quello di Lynch il fatto eh di non buttarla molto su su la sequenza di di avvenimenti e anche il fatto in realtà di di concentrarsi molto di più su sull'unità di luogo che è quella appunto del pianeta eh dei framework questa cosa secondo me si perde un po' nel nel Dune di Lynch sia per il fatto che comunque sbaria tra tra più pianeti in modo più repentino rispetto al film di di Villeneuve ma anche nel modo in cui viene messo viene messo in scena comunque tutto eh tutta l'ambientazione del eh del pianeta di di Arrakis giusto? Sì sì Arrakis di Dune sì e invece appunto nel film di Villeneuve eh questa cosa secondo me ha molta più molta più attenzione anche nel modo in cui Villeneuve alterna appunto le varie sequenze più pioniriche di del saggio protagonista come le fonde a comunque alle immagini eh del del pianeta in modo da da collegare anche iconicamente eh l'avvenimento no dell'arrivo del messia su sul suo pianeta dove si avvererà appunto questa profezia secondo me questa cosa nel film di Lynch eh è molto poco molto poco presente quindi ho apprezzato molto la scelta di di Villeneuve di restare molto più ehm se vogliamo su forse onirica un po' sbagliato però eh quel tipo di di idea che normalmente è anche quella che del cinema di Lynch ma che in realtà non ho trovato per nulla eh nel suo film quando invece è appunto molto molto di toscalico in quello in quello che dice ecco non so se Ale vuole completare il giro un attimo di questi pareri di Massimo io io sono dai ne abbiamo già parlato in privato io e te Marco e comunque io sono perfettamente d'accordo con quello che che tu hai detto fino ad ora e anche quello che ha detto Gian Maria volevo aggiungere che in realtà il da un certo punto di vista il film di Lynch è molto più fedele al libro in eh soprattutto nella prima parte rispetto a quello di Villeneuve ma in senso negativo perché tutti i voice over del film di Lynch di fatto sono la voce pensiero dei personaggi all'interno del libro e già nei primi due capitoli del libro il eh viene spiegato bene o male eh tutto quello che anche nel film di Lynch viene spiegato quindi tutta la mitologia tutta la profezia eh tant'è che viene anche rivelato nelle prime venti pagine chi sarà il traditore del della casa trade e se chi provocherà in sostanza la il conflitto che 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 occupa diciamo il climax del film di Villeneuve mentre invece è un po' è diciamo la fine della prima parte nel film di di Lynch e qui il film di Lynch è proprio la la prova che essere eh forse troppo fedeli al libro in proprio in certe dinamiche narrative non è non è poi una soluzione così eh vantaggiosa perché si tratta poi di trovare un un modo di tradurre in in immagine in nel nel contesto dell'audiovisivo qualcosa che eh eh è difficile da rendere non è e renderlo nel esattamente nello stesso modo in cui è reso nel libro eh di fatto non funziona perché appunto la voce pensiero così come come la usa Lynch è stucchevole noiose di da scalica non eh rallenta il ritmo e e e e di fatto si tratta solo di sottolineature di alcune cose che in molti in molti frangenti sono sono veramente ovvie a me viene in mente la scena del di quando Paul viene attaccato nella sua stanza dal 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 robottino dalla specie di siringa che 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 un narconnen all'interno del palazzo sta manovrando per ucciderlo nel nel film di Villeneuve è una sequenza completamente silenziosa mentre invece nel film di Lynch è praticamente eh c'è c'è questa c'è questa voce di Paul che 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 spiega tutto come lo spiega anche nel nel libro se però nel libro questa eh il i pensieri di Paul eh scorrono a parole e funziona come tipo di narrazione poi funziona si tratta anche di di capire cioè se funziona o meno cioè dal punto di vista testuale eh è molto più eh probabilmente più semplice da rendere mentre invece sì è letteratura comunque esatto è letteratura il pensiero poi tradurlo nel libro sulla parola mentre nel film non necessariamente ti serve la cosa basta anche semplici movimenti come nel indipendente esatto esatto io vorrei fare una chiosa a tutti i vostri ragionamenti perché comunque c'è una certa coerenza il punto è proprio questo come si narra una mitologia del genere c'è una mitologia mastodontica qui stiamo parlando solo del primo libro che credo siano più di 600 pagine però è il primo libro cioè ce ne sono altri non so quanti a me è bastato leggere il primo no grazie appunto e ma poi ci sono anche mi pare degli spin off qualcosa scritto da dal primo in ogni caso e il discorso che stai facendo voi proprio sul come si narra qualcosa del genere e quello che non funziona è l'inch l'avete detto anche voi oltre a la letterarietà cioè questa questa questo uso delle voci interiori che comunque a me non è che dispiaccia al cento per cento per esempio per me nella scena in cui paul viene attaccato dalla da quella da quella freccetta volante quella zanzarina non mi ricordo bene e a me in quel caso è piaciuto ok perché lì forse necessitavo di qualche spiegazione infatti mi viene nel dubbio adesso faccio la provocazione al contrario che io l'abbia apprezzata con la sequenza nel film di villeneuve perché avevo visto da poco il film di lynch e sapevo cosa stava succedendo mentre finivi non mi spiegano nulla però ammesso sì sì in parte comunque ammesso è assolutamente non concesso che sia una cosa rilevante perché proprio qui che voglio arrivare cioè quanto è rilevante spiegare ogni singola cosa il punto è proprio che innanzitutto mi pare che nella versione allargata marco la rivista la vista da poco questa didascalicità è ancora accentuata perché c'è tutto un inizio si narra tutta la storia ecco appunto sì ma anche durante il film molte cose vengono ripetute più volte come se avessero tenuto conto dello spazio pubblicità c'è una roba veramente super televisiva la sensazione è proprio quella è infatti o facevi una cosa come quella che voleva fare jodorowsky cioè sette ore di film totali in cui si dice tutto lo scibile umano però ovviamente non trovi nessuno che te li finanzia oppure fai il polpettone mettendo tutto dentro che è un po quello che de laurentis credo costringe lynch a fare ma ci sono delle cose tipicamente lynchiane che cozzano con il film al di là del degli di quelli che a me sembrano gli interventi produttivi perché la il dune di lynch viene spesso accostato per questioni che riguardano il fallimento della produzione al precedente colos al fantascientifico di de laurentis cioè il gordon flash di scusate non ricordo più il regista comunque quello con le musiche dei flash gordon scusa quello con le musiche di queen ci sono delle similarità anche estetiche cioè il dune di lynch ha un mix di di grottesco di deformità anche la scena con la mano nella scatola che una scena in generale un po ridicola e lynch la fa diventare mezza gore mentre vilneve si concentra sul lato psicologico e poi tutti questi personaggi bizzarri e brad durif e sting e silvana mancano sono cose che a me fanno piacere un film perché è al limite del trash e mix a un sacco di 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 stilemi differenti però comunque rallentano il ritmo come dicevate voi ma pur accadendo molte più cose che nel fin di di finnerzo cioè non è che il ritmo è rallentato perché lynch si prende i suoi spazi e elique fa un pochettino la narrazione no succedono una marea di cose ci sono una marea di personaggi pur durando la versione di lynch meno del di cora di vilneve che parla solo di metà libro e in tutto questo in questo profluvio di di stili estetici differenti si si trova qualche tocco simpatico il punto però è che tutto questo cozza con l'estrema seriosità che alla saga di herbert infatti questo è uno dei film di lynch con meno ironia pur essendo lynch per me un regista pieno di 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 ironia persino in fino come il land empire e il fin di lynch con meno ironia e però con quella estetica lì o facevi veramente flash gordon e allora ci dovevi mettere quell'ironia oppure diventa un polpettone serioso che ha degli spunti qua e là e ma che preferisce inanellare una serie di di vicende e di personaggi infatti lynch si concentra molto più di vilneve sugli arconen no e soprattutto sul loro sul loro aspetto fisico il barone con tutte le bolle in faccia mentre il barone di vilneve è sempre in penombra e nonostante sia l'antagonista appare in poche scene e vilneve libera anche insomma riduce moltissimo anche molti personaggi della mitologia di dune quindi sicuramente scontenta i fan accaniti del libro il punto però è che lui si prende il tempo per concentrarsi sul personaggio di paul per fare un film psicologico parlando poco senza spiegare ossessivamente tutto e prendendosi anche dei tempi molto più dilatati in questo senso diventa un colossal che sta incassando tantissimo ma che non è per niente compiacente nei confronti dello spettatore perché insomma non non sta dietro alla fan base ok non sta dietro neanche lo spettatore medio perché si prende dei tempi dilatati e perché moltissime cose non le spiega e non gli interessa però funziona almeno da quello che si vede in giro funziona per i cinefili senza pregiudizi e per il motivo che ha detto marco cioè con calma ti fa entrare dentro la la mitologia e non ti riempie di nozioni su quella mitologia in questo senso è un film molto essenziale e minimale effettivamente a parte le scene di combattimenti che comunque sono belle non è che ci sia tantissima roba cioè si svolge quasi tutto su arrakis mentre lynch lynch ci arriva più con calma addirittura villenev evita di sbatterci in faccia i vermoni in tutta la loro grandezza e magnificenza io l'ho trovata una un colpo di stile questo è perché tutti aspetti il vermone e invece villenev ti fa vedere un po il la bocca del vermone a un certo punto però insomma sono più delle presenze sotterranee che qualcosa di effettivamente esibito per quanto fossero carini i vermoni di rambaldi nella versione di lynch e quindi fa tutta questa operazione minimale in questo in questo deserto e da un certo spazio al viaggio di paolo con sua madre il viaggio che fanno quando gli atreides vengono vengono traditi e loro poi sono costretti a viaggiare su dune e ad arrivare dai fremen e in questa maniera effettivamente cambia tutto cambia il respiro dell'opera ti dona quel senso di epicità che nel nel film di lynch mancava perché paul qui mi dispiace dirlo ma timothy shalam melecco che non è un grande amico del salotto insomma funziona meglio di kyle mclachlan perché 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 villenev si concentra molto su di lui sulla sua e sulla sua figura di individuo tragico nel senso proprio greco cioè di individuo che non può sfuggire al suo destino è praticamente segnato da sempre e certe volte lui arrabbiandosi lo dice a sua madre e quindi introduce quel rovello interiore quella quell'eroe riluttante quel senso di tragicità ed epicità che comunque in una saga fantascientifica ci stanno ci stanno o in una saga anche fantasy ce li hanno frodo e aragorn ce l'ha luke skywalker e chi volete voi e questa cosa invece non passa ovviamente nel in quell'universo kitsch che è il il film di lynch che appunto ha un cast incredibile trova trova attori mitici anche per ruoli insignificanti e mentre villenev ripeto fa un'operazione molto più vicino a quello che è il il senso di fare un colossal un colossal per il grande pubblico e in questa maniera incredibilmente ci riesce perché appunto incredibilmente perché c'è una certa pesantezza di fondo che appartiene anche al libro e che e lui lo sa lui lo sa la mantiene intatta però senza appesantirla ulteriormente con il lato letterario e quindi per tornare alla mezza polemica di prima e quindi ha senso che io guardandolo alcune cose non le sappia o non le venga a sapere ben inteso che essendo un film in due parti può essere che la seconda parte narrativamente vada un pochettino più spedita io preferirei di no però se lo facesse avrebbe senso perché si è preso un'intera prima parte per calarci in un'atmosfera e in un universo e questa cosa in una saga fantascientifica anche se un semplice dittico ma anche in un lungo film come volevano essere quelli di lynch e di odoroski questa cosa è fondamentale non si può evitare di considerarla e anche gli effetti speciali e il sonoro sia la colonna sonora che in generale era proprio tutto il lavoro sul sonoro che sicuramente verrà preso in considerazione dall'academy immagino e anche quel lavoro lì un po' martellante è fondamentale per farti entrare nella mitologia e nell'atmosfera se questa cosa funziona bene e mi pare che funzioni se non funziona viene fuori il polpettone però il fatto di questi di un prodotto del genere che deve funzionare il meccanismo credo d'accordissimo anche perché tutte le critiche che ho sentito principalmente rivolte al film sono state relative al fatto che il film sembrava un'entrata appunto per quello che veniva dopo però come hai detto benissimo tu Dario in realtà quello che viene dopo fondamentalmente si basa tutto su come si è stato formato comunque sia il personaggio di Paul sia tutta la mitologia che Villeneuve ha tratteggiato benissimo secondo me in questa prima parte prendendosi tutti i suoi tempi quindi non condivido particolarmente le critiche relative al fatto che questo sembrava più un trailer di quello che doveva avvenire dopo rispetto a quello che è veramente il film e devo dire che anche Zimmer qui secondo me ha fatto un passo avanti rispetto alle sue ultime colonne sonore perché è riuscito comunque a creare un insieme sempre con la sua magnificenza uditiva sempre esagerando un po' però è riuscito secondo me a trovare le giuste sonorità adatte l'ambientazione in cui come si sviluppava tutta la vicenda era abbastanza per certi versi folcloristico tutto quello che si sentiva nel film e anche gli effetti relativi poi al potere della voce che hanno Paul e sua madre erano a livello di sonore sono stati utilizzati molto molto bene e anche il discorso relativo poi al fatto che questo sia un grande realizzato comunque come un blockbuster nonostante poi si prenda i suoi tempi come già comunque faceva in Blade Runner 2049 questo 2 lo considero comunque un successivo comunque a tutto il percorso che aveva già iniziato con Blade Runner 2049 e ricorda molto secondo me anche l'ultima saga di Star Wars relativamente ai blockbuster rispetto a quella di Lynch tu hai detto che i personaggi delle altre razze sono sviluppati molto meno effettivamente qua ricorda molto il nemico ricorda molto per esempio Snoke dell'ultima saga di Star Wars sempre nell'ombra e utilizzato il minimo indispensabile scusa una cosa Marco rispetto a quello che diceva Jamma anch'io trovo che sia un po' sterile la critica che lo vede come un trailer del secondo perché anche se fosse come ho detto non ci sarebbero problemi secondo me il punto però è che comunque non è così a mio parere cioè è questo stile qui tu hai tirato fuori giustamente Blade Runner 2049 ed è così è il modo in cui Vilneva ha deciso di approcciarsi a questo genere di film talvolta riuscendoci talvolta meno in questo caso secondo me riuscendoci bene e quindi è proprio a prescindere da tutte le discussioni su se autore o meno è il suo la sua impronta è molto lenta e ragionata sul blockbuster sì sono d'accordo e quindi secondo me è questo il motivo per cui il film è fatto in questa maniera non perché sia semplicemente un preludio al secondo fermo restando che anche se fosse così come abbiamo detto avrebbe senso in questo in perché comunque si tratta di una saga e di un universo da essere mi piaceva proseguire il confronto col film di Lynch anche a proposito di quello che dite voi specialmente il discorso sul blockbuster rispetto al dialogo che i due singoli film intrattengono col loro contesto temporale cronologico ma anche produttivo il Dune di Lynch è un film che dialoga tantissimo con la fantascienza del suo tempo tutti gli aspetti più fuliginosi delle scenografie più larghe e ampie sono moltissimo figli di Blade Runner così come tanti altri aspetti sono inevitabilmente figli di Star Wars di Lucas tra l'altro è interessante nel documentario da cui arriveremo magari del Dune di Jodorowsky come in realtà tutte queste cose siano un po' partite dall'immaginazione di Jodorowsky comunque il discorso sul Dune contemporaneo è molto diverso il Dune di Villeneuve non solo per il discorso che dicevo io sul modo in cui si addentra nella mitologia ma per come intende lui il grande spettacolo è molto diverso dalla produzione di questo genere di film oggi per quanto la decisione di farne un primo capitolo che è un preludio a un secondo comunque lo inserisca in questo contesto di fatto non c'è nulla di male perché comunque un sequel a questo film potrebbe non tradire spero non tradirà l'aspetto più essenziale e minimale di cui dicevamo prima quello che mi fa ragionare di più quando guardo Dune di Villeneuve è piuttosto che l'unico dialogo che effettivamente con cui si intrattiene questo film è Blade Runner 2049 e mi interessa molto una cosa semplicissima rispetto al confronto con questo film nel senso che Blade Runner 2049 nonostante le assonanze è esattamente l'operazione opposta a Dune Blade Runner 2049 parla di un mito morto che si ripropone sotto forma di simulacro e continuamente in una reiterazione costante di questo concetto e della perdita della narrazione di Blade Runner c'è questa sorta di lutto cosmico e là le scelte di ambientare un film in questi contesti desertici, in questi luoghi svuotati erano sembrate tutte scelte molto autoesplicative molto elementari, molto dirette penso che fosse la cosa più ovvia da fare in quella circostanza mentre quando guardo Dune di Villeneuve innanzitutto rifletto sul fatto che è l'origine di un mito e quindi che sceglie di partire dal nulla cioè per quanto uno possa avere riferimento film diversi qua parlo purtroppo per esperienza mia personale non ricordavo nulla di Dune e mi è sembrato proprio di partire dal niente e il film si costruiva nel modo che ho detto prima e quindi ho la sensazione che la scelta non solo delle ambientazioni ma anche della patina giallo-marrone in tutto il film abbia un senso perché è come se il film si scrollasse di dosso questa patina continuamente se cercasse di venire fuori a modo di basso rilievo da questo tipo di discorso a cui che ha e che è molto di Villeneuve evidentemente e che qui secondo me diventa strutturale e non scelta diciamo un pochino puramente estetica e brutta però ci siamo intesi cioè che in Blade Runner mi sembrava la cosa più evidente l'unica cosa su cui divergo un po' da quello che avete detto voi ma insomma tutto sommato non mi ha dato neanche troppo fastidio è effettivamente la musica di Zimmer non perché io voglia parlarne nei toni con cui se ne parli sempre perché ormai è diventato quasi meme quello di parlare male di Zimmer però effettivamente quello che mi sembrò ovvio di tutto Blade Runner 2049 qua mi è sembrato la parte più ovvia mi è sembrata proprio la musica di Zimmer e non perché doveva essere originale però penso che il film solo col sound design che dialoga con Zimmer però ha anche una sua autonomia solo con il modo in cui Villeneuve rischiude gran parte delle sequenze con grosse differenze fotografiche nei momenti onirici ho la sensazione che Zimmer fosse in questo caso una forma di sottolineatura neanche troppo intrigante nel senso ci sono degli stacchinetti fra momenti della narrazione principale e il momento onirico come anche cioè una cosa che mi aspettavo venisse fatta e che invece mi è sembrata molto tronca era un discorso anche sensoriale visto che il film è una grande esperienza sensoriale anzi ce l'ha un po' come come feticcio ma insomma è anche tutto sommato un blockbuster per esempio c'è tutto il motivo delle vibrazioni nel deserto per farsi sentire o meno dai vermoni addirittura una cosa che nel film di Lynch non c'è e in questo c'è la camminata strana che devono avere i femen per mantenere le vibrazioni a cui sono abituati i vermoni ma anche quando Paul dispone il martello che continua a urtare la sabbia per poter attrarre il vermone ecco ho avuto la sensazione che quello che succedeva nel film e quello che succedeva nella colonna sonora in quel caso fossero cioè non c'era l'occasione veramente di premere ancora di più il pedale su un aspetto sinestetico che secondo me in parte si è perso ma diciamo più di questo l'esperienza è stata quella che è stata insomma non posso lamentarmi capisco il discorso anche se secondo me funziona quel lato lì ma soprattutto ha anche una serie di accorgimenti per esempio a me ha stupito l'importanza che Villeneuve dà all'aspetto onirico che è maggiore rispetto a quella che dà Lynch mi ha stupito perché Lynch è un grande regista di sogni di incubi quindi accidenti eppure Villeneuve evita il monologo interiore di Paul e fa parlare i sogni così come nel caso in cui gli sguardi non bastano dà una certa importanza alla lingua dei segni perché la madre di Paul parla con le dita ha una lingua dei segni è una cosa che mi è piaciuta molto come sottolineatura per non parlare poi del fatto che ci sono anche lingue diverse da quella umana con sottotitoli annessi una cosa che fa molto Signora degli Anelli ma nonostante questo il film ha detto bene Marco che dialoga con un contesto proprio come quello di Lynch per questo ho parlato di Flash Gordon eccetera il punto però che dialogare con un contesto è inevitabile quando si fa un'operazione del genere e quindi devi scegliere una via la via che sceglie Lynch non è una vera via perché ne imbocca tante con delle punte stupende per esempio a me fa impazzire la sorellina di Paul nel dune di Lynch perché è inquietante con quella vocina veramente è una roba horror vero però in quel contesto non c'entra nulla cioè cozza con tante altre parti infatti per quanto il mio gusto è che è una cosa che a me piace un film in cui ci sono delle cose che non cozzano però capisco che sia fallimentare in un blockbuster ed è una cosa di cui quando la vedremo nel secondo film di Villeneuve la parte malvagia di me spera che sia altrettanto trash e horror la parte buona di me dice no Villeneuve manterrà sottotono come ha fatto col barone e farà bene il punto però è che la via che sceglie Villeneuve è quella di arrendersi al fatto che il film necessariamente dialogherà con un contesto oltre alla saga letteraria anche i miti di Lynch e di Jodorowsky e poi tutto il contesto della fantascienza già ha citato gli ultimi Star Wars si arrende a questa cosa e un po' se ne frega cioè avrebbe potuto fare un film pregno di citazioni di rimandi di strizzatine d'occhio di cose che secondo me avrebbe anche acquietato gli animi di alcuni cinefili accaniti però non l'ha fatto cioè è consapevole che non si può eliminare il rumore di fondo che il film non è davvero autonomo però ha cercato una sua via per rendere l'autonomo il più possibile cioè per dargli comunque quell'impronta lì che è quella che abbiamo delineato finora e che a livello individuale funziona quindi proprio a livello di come dire di psiche dello spettatore perché poi bisogna fare una riflessione sullo spettatore davanti a un prodotto che ha un paratesto così enorme altri libri altri film altre cose e che forse parte o con pregiudizi positivi o con pregiudizi negativi o parte da fan o parte quindi l'operazione era difficile e lì Villeneuve decide di non strizzare gli occhietti a nessuno secondo me e fa un film che sta a sé e che però non può evitare anche di dialogare con ciò che gli sta intorno però questo è inevitabile in qualche misura il punto è quanto diventa una civetteria del regista e quanto invece è una necessità dovuta al contesto e al paratesto stessa dell'occhio che per esempio in Blade Runner è pieno nonostante siano immerse nel suo tono e già e questa è la differenza e questa è la differenza anche se ha più senso in quel caso quello che hai detto tu prima Marco uno genera un mito uno melogia la fine quindi anche il fatto in uno che ci siano più citazioni in uno meno anche relativo a quel discorso che si ha capito eh però rimane Dune rimane quello che ha detto Dario cioè lo indio di un mito però una cosa che dovrebbero conoscere tutti è che ha tantissimi pregressi quindi era altrettanto facile scegliere quella strada per me è sempre con Villeneuve è molto qual è la scelta più facile mi sembra che la intraprenda spesso tutte ecco quello è il mio problema con Villeneuve spesso in questo caso avrebbe potuto benissimo far riferimento ha evitato con cura questo è il tocco di stile tutte queste cose perché come fai tu a non far uscire fuori il vermone dalla sabbia e a non ricordare il vermone di Rambaldi semplice il vermone dalla sabbia non esce cioè è semplice ma è anche è anche però corretto capite oppure quando esce lo fai uscire in penombra che quasi manco si vede sì lì infatti è quello che fa cioè si vede una specie schiena a un certo punto forse nel secondo emergeranno non lo so però l'ho trovato anche perché verso la fine del film si vede uno dei treman che cavalca appunto in lontananza e lo devono cavalcare tutti quanti sì sì quindi probabilmente alla fine è qualcosa di più a meno che non facciano una roba a modi serve a meno che non resti sempre per mezzo corpo sotto sabbia mezzo forma può essere anche quello ma non sappiamo volevo lanciare un altro spunto l'abbiamo già citato diciamo ok rispetto all'aspetto onirico nel film nel senso che Villeneuve non è Lynch per cui ecco l'unica cosa che io potrei giustificare dentro Lynch è che nel film di Lynch è che l'aspetto più che onirico è molto linciano nelle stilizzazioni di certe cose l'immagine che viene spesso presa come cioè ho vista un paio di volte di recente che insomma ho letto e ho guardato qualcosa su Dune l'immagine del film di Lynch che viene presa diciamo in considerazione per dire questo è un film di Lynch è quella credo a metafilm dell'immagine spaziale con le astronavi che si vanno a portare all'interno dell'astronave madre a me è ricordato un sacco i titoli di testa di Mars Attucks e di Tim Burton ma questo è un altro discorso però appunto ci sono queste cose che sono parecchio sono delle anomalie proprio nel film e quindi è un po' quello che dice Dario sono elementi che cozzano l'aspetto onirico in Villeneuve Villeneuve non rinuncia a una certa segmentazione all'aspetto onirico per quanto il film sia tutto abbia tutto una patina che ha a che fare con un incedere un po' un po' lento un po' sospeso quindi siamo d'accordo che anche qui c'è un'atmosfera generale che regge anche al momento in cui cambiano le situazioni effettivamente però c'è un filo è molto fluido il film e appunto la sensazione è che non vada per situazioni cosa che invece succede però l'aspetto onirico è molto spezzato dal resto e secondo me però questa separazione è un po' più sottile di come per esempio è in Arraigol di Villeneuve perché un film con cui dialoga parecchio d'uno è Arraigol perché in Arraigol l'aspetto del sogno si scopre alla fine ma quello spoiler lo facciamo Arraigol è uscito cinque anni fa quindi cavoli vostri è il fatto che si scopre alla fine che si tratta del futuro e là è veramente ridotto al feticcio dello strumento narrativo del plot twist e del capovolgimento di una cosa in Dune di Villeneuve il sogno funziona in maniera molto simile perché noi il mito prima di questa origine non ce l'abbiamo comunque Villeneuve non ce lo spiega non ne abbiamo bisogno però vediamo che Paul sogna il mito del futuro e quindi c'è un po' un mito retroattivo sono gli effetti del futuro che hanno appunto mi ripeto effetto sulla vita di Paul però appunto non solo il fatto che sia una prima parte nonostante a me sembri che il film arriva a una sua conclusione tutto sommato cioè lui prende una sua coscienza quasi in un coming of age di una sua certa di un suo certo ruolo nel mondo tra l'altro coming of age non a caso è una delle tante cose con cui dialoga l'unica di Villeneuve inevitabilmente tutti l'immaginario teen young adult che abbiamo oggi però appunto il sogno funziona in maniera un po' più sottile che in Adragl cioè allude nonostante sia ben identificabile nel film a livello proprio di scena rimane comunque un pochino più assorto meno meno cioè non deve non deve sottolineare nulla per cui ho avuto la sensazione che le due cose fossero tutto sommato uguali in sede di sceneggiatura però poi hanno pesi specifici molto diversi io volevo aggiungere su questo punto sui sogni anche in relazione a quello che fa Lynch perché Lynch nell'utilizzo dei sogni utilizza poi tutte scene che vediamo uguali poi nel proseguo nel proseguo del film quello che fa Villeneuve mi pare molto più in realtà più suggestivo innanzitutto giustamente essendo solo una prima parte per magari alcune scene di sogni che abbiamo visto qui le rivedremo poi nella seconda parte però già solo il fatto che vengano mostrate per certi versi in questa prima parte e noi non li vediamo poi realizzarsi siccome danno un effetto molto suggestivo di un futuro che dovrà ancora accadere però mi pare che certi sogni rimangano proprio anche suggestioni senza poi una concretizzazione che poi succederà successivamente perché adesso non vorrei sbagliarmi ma il personaggio con cui combatte e uccide poi Paul verso la fine del film e se non sbaglio compare anche nei suoi sogni esatto guardandoli e questo crea in realtà una differenza tra il sogno e poi la reale la realizzazione poi del futuro quindi c'è questa questa differenza tra sogno e realtà che secondo me è estremamente interessante nel film di Villeneuve che in quello di Lynch non c'è assolutamente ma che ripeto aumenta molto la suggestività che prova che poi tutto il film è una scelta che mi è piaciuta particolarmente ma anche una visione non totalmente collegata a quello che succederà ed è così cioè nel senso il punto è allora i sogni nella versione di Villeneuve sono più suggeriti che altro non è che noi vediamo in alcuni casi sì però vediamo spezzoni lunghi interi di sogni di futuro però quello che importa è il lato visivo vediamo il volto della ragazza vediamo il volto dell'uomo che poi Paolo ucciderà e che però nel sogno si dice è l'uomo che ti salverà quindi non sai in che modo si incontreranno e non ti aspetti che quella è quello che accadrà e queste cose da un lato eliminano la suspense perché tu sai già insomma sai già quello che aspettarti a livello visivo e in questo modo Villeneuve diciamo ti dice ecco fregatene della trama stai seduto lì goditi lo spettacolo ed entra piano piano dentro Arrakis ok dall'altro però proprio per questo scarto che diceva Gian Maria comunque si riescono ad avere delle sorprese a livello diegetico senza che ci sia però quello shock quel colpo di scena quel plot twist esagerato che era in Arrival come notava Marco e questa cosa per me indica un discorso che fa Villeneuve sulla forma cioè sulla forma narrativa di quello che stiamo guardando sul fatto che tu stai guardando uno spettacolo che è essenzialmente visivo ecco perché non è importante spiegare tutto così come non è importante che ogni cosa anticipata nella trama vada esattamente in quel senso lì e non è importante avere troppe sorprese però entra nel turbamento nel rovello interiore di Paolo che va incontro al suo destino veramente il tema importante del film di Villeneuve mentre non sono in grado di dire qual è il tema importante nel film di Lynch e questo secondo me in un colossal un pochettino non va bene e quindi tu entri in questo percorso al di là delle sorprese più o meno positive o più o meno effettivamente sorprendenti che ti può dare la trama e quindi quindi rimani con una forma siccome il cinema di genere e la letteratura di genere sono forme e qualunque tentativo a mio parere di andare troppo oltre la forma di dire qualcosa di di pseudo alto è sempre un po' destinato a cadere nel ridicolo CFR i discorsi politici nello stesso Dune di Herbert e in questo senso Villeneuve va a segno perché appunto fa un discorso che è essenzialmente visivo e che non è neanche così strettamente correlato alla trama che è qualcosa che allo spettatore medio del blockbuster dovrebbe interessare in teoria un altro aspetto che in realtà è l'ultimo momento che mi viene in mente che volevo discutere con voi perché io non escludo che nelle tante visioni a Venezia guardando questo film poi mi sia sfuggito un attimo una cosa che forse nel libro succede e che nel film di lì c'è un po' più evidenziato è il il fatto che è la madre di Paul Jessica sia una concubina del duca Lito e io può essere anche che cioè sicuramente viene detto nel film e io mi sono mi è sfuggito il passaggio però è il è particolare il modo in cui lui decide di raccontare questa figura femminile perché anche qui rifugia la soluzione più ovvia e cioè farne un empowerment estremo invece mi è piaciuto molto il fatto che piuttosto che ragionare in quel modo ragioni più in termini di quasi amicizia con il figlio cioè il rapporto di loro due che è dato dal anche dall'insegnamento di alcuni dei poteri che Paul utilizza mi è piaciuto molto di più e in originale è molto bello come come resa la voce cosa che in Lynch arriva molto dopo mentre nel film di Villeneuve immediatamente c'è la voce e l'ordine dato agli altri quindi il controllo sulla volontà altrui e mi è piaciuto molto come come soluzione forse in quello di Lynch per quanto venga detto magari viene detto in maniera ancora più chiara e quindi si percepisce un po' del classico disagio di corte quando arrivano su Arrakis rispetto al ruolo di Jessica cosa che invece nel in Villeneuve l'ho notato un po' di meno però ho notato che in Villeneuve mi è piaciuto molto come è scritto il rapporto fra loro due c'è un rapporto di grande intesa però senza cioè è quasi più di amicizia che non di madre e figlio con tutto che ci sia una gerarchia fra i due nel senso che è destinata a capovolgersi perché lui è il quelle parole strannissime che vogliono dire l'exo il messia allora sulla concubina anche Villeneuve lo sottolinea in un momento rilevante quando ci si accorge che sta per succedere qualcosa di serio a Lito e infatti poco prima di morire nell'ultimo incontro tra lui e la sua amata lui dice avrei dovuto sposarti una cosa del genere e poi gli viene detto la tua concubina in senso dispregiativo quindi in quel momento clou per cui secondo me gli dà una sottolineatura però il rapporto invece tra madre e figlio il Lynch è inesistente perché lui salta praticamente la parte del viaggio che fanno i due e poi introduce subito il personaggio della della bambina che è una specie di copia horror della madre e soprattutto la madre è nel film di Lynch dispiace dirlo è molto monodimensionale mentre in Villeneuve c'è questo conflitto tra l'essere una Bene Gesserit o Gesserit ed essere la mamma di Paul che è un conflitto che proprio si disegna sul volto della Ferguson ed è molto forte nella scena in cui lei lascia Paul con la reverenda madre cioè con Charlotte Rampling e si vede la sua quanto lei sia combattuta nel fare questo in pochi attimi e si vede anche nel confronto tra di loro perché appunto sia un rapporto di amicizia sono due in effetti tu vedi la storia di un uomo e una donna che fanno questo viaggio e nel cinema di solito sono due amanti invece qui sono madre e figlio per cui c'è anche un certo una certa tenerezza di fondo però c'è un conflitto appunto perché lei ha creato una specie di mostro come lui stesso le recrimina però si vede la lotta psicologica e lo stesso Duca Lito quando gli dice quando lei dice di proteggere Paul lei dice e beh ovvio che lo proteggo come a dire io sono la mamma e lui dice no non te lo sto chiedendo a una madre ma da bene guess it cioè te lo sto chiedendo da 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 non saprei come definirla da rappresentante di questa setta occulta di questa setta occulta per cui c'è questo c'è questa scissione del personaggio che è evidente che mi pare e nel libro sia molto sottolineata giustamente perché è è una cosa enorme e come se tu prendi il signore degli anelli e fai fare un figlio a Gandalf c'è ci sono potenzialità narrative infinite perché appunto tra l'essere una figura quasi divina e l'essere una madre ci sono comunque questi questi conflitti e insomma questa cosa nel fin di lì c'era totalmente zompata e invece in Villeneuve è la seconda questione rilevante dopo il il percorso insomma il percorso interiore di Paul che va verso il suo destino già scritto in qualche maniera e mi permetto infine di sottolineare che tutto il discorso metaforico su l'Iraq le estrazioni di petrolio tutte cose qui queste cose qui che presuntamente sarebbero nel romanzo in realtà è una cosa tutta da dimostrare ma comunque presuntamente sarebbero nel romanzo Villeneuve le accosta giustamente cioè non puoi evitare quel discorso lì non puoi evitare di fare involontariamente quei richiami lì però è sempre qualcosa che è sullo sfondo come qualunque cosa che non sia l'ambiente intorno e la tragicità dell'eroe sì sì l'accordissimo anche ancora sul rapporto tra Paul e la madre il fatto che comunque lei decide di avere un figlio maschio quando comunque nella sua setta gli è stato fribito e anzi volevano una donna scusate anche questo fatto aumenta molto poi il rapporto che c'è tra di loro perché comunque non è una figlia dovuta quasi per volontà di proseguire questa dinastia che muove un po' tutti i figli in realtà dietro la politica del mondo di Dune ma il fatto di essere un figlio comunque voluto nonostante teoricamente non avrebbe neanche potuto averlo secondo i dettami poi che gli erano stati imposti imposti dall'alto a che gli erano stati